Ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale io sono Alessia e questo nuovo episodio della Disney Princess Challenge. Allora continuiamo dalla mattina dopo rispetto a quando ci siamo lasciati e ho fatto una piccola modifica nel senso che ho venduto l'altro letto singolo e il comodino in quanto per il momento non avremo il coinquilino quindi ho preferito raccimolare un po' di soldini che mi farebbero comodo. Nel frattempo è arrivata anche la notifica che siamo state promosse a tagliafoglie abbiamo guadagnato un bonus di 500 simoleon, piante estive, spruzzomatico 2001 e decalcomania mamma numero 1 non so che cavolo voglia dire. Ho selezionato lavora a casa e quindi adesso sono riuscita a farle fare una bella notte di sonno ora la svegliamo e ci tuffiamo in questa giornata. Allora io ho i bambini al piano di sopra e giustamente come mi ha fatto notare qualcuno di voi con questa tipologia di scale i bambini non possono scendere, i bebè si intende, possono farlo solo da quando sono bambini in poi ma da un lato era proprio anche questo l'obiettivo nel senso non avere pargoli che mi camminano in giro, li argino lì sopra e mi risolvo anche il problema. Detto questo mi fanno recuperare non poco spazio perché vi giuro non ce ne stava neanche una sennò avrei dovuto rivedere tutta la disposizione ma honestly anche no thank you. Detto questo facciamo mangiare anche i bambini, devo lavare anche Diego che anche voi vi avete detto essere una pigna e tecnicamente anzi senza tecnicamente in questo episodio la nostra bianca partorirà il terzo figlio perché adesso mancano dieci ore al terzo trimestre quindi verso la fine dell'episodio partoriamo così vediamo anche maschio femmina e quant'altro poi magari aspettiamo un attimino magari un giorno due poi restiamo incinta di nuovo per darci il giro. Poi qua di sopra c'è una sorta di putiferio nel senso i bambini mi stanno facendo il disastro che poi la sfiga è che finché almeno uno di loro non mi diventa bambino che quindi posso aiutarmi con magari pulire per terra tirarsi i piatti o cose del genere sono vincolata a far tutto io e questo complica non poco le cose quindi vabbè non so neanche quanto manchi poi a cenerentola anzi a ella tre giorni dai nel prossimo episodio allora la vediamo crescere molto bene e loro due stanno bene a parte lui che deve essere lavato però intanto sta facendo la pipì cosa buona e giusta tanto spostiamo questa roba qua e cos'è che ho ottenuto dalla promozione le piante estive e il resto dov'è nella unità familiare a sta schifezza qua de calcomania mamma numero uno via cavolo 350 si muovono per lo spruzzomatico che non me ne faccio niente sì sì benissimo abbiamo guadagnato due lire e adesso facciamo il bagno tranquillo normale a diego tu ella per favore non rompere vieni qua comunque ti taglio le mani cioè proprio ma moncherino proprio vabbè dopo andremo occuparci anche del giardino perché qua abbiamo qualcosa da si più di qualcosa da sistemare al no metti nell'inventario a perché non ho il cesto no pulisci vabbè me lo impianta per terra perché non può farci le scale non importa porto giù io quale problema ok dai veniamo a prenderci cura un po del giardino veniamo a estirpare le erbacce anche perché dobbiamo fare gli incarichi dobbiamo raggiungere il livello 5 di giardinaggio e fare una ricerca su una pianta io a mi è morta una pianta si è morta eh vabbè cose che capitano c'è nel senso ma che sia stato per via degli animali perché voglio dire ci sto anche tanto dietro a ste piante è stato per quello vabbè che adesso ho ottenuto le piante estive quindi se non ho già qualcosa la pianto senza problemi intanto noi vendiamo tutto mi va anche la davanti adesso anche qua c'ho da estirpare le erbacce adesso facciamo tutto il club gnomi da giardino vi ha steso io posso dirvi la verità non avevo neanche collegato gnomi biancaneve nani eccetera vi giuro sono pessima lo so ma io casco dalle nuvole abbastanza spesso quindi sì ecco allora 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 qui abbiamo venduto tutto quello che potevamo vendere siamo già esauste ed è appena metà giornata incoraggiante direi qua di sopra si divertono a farmi il disastro è anche vero che non hanno niente pori cristi ma adesso che abbiamo un po di soldi potremo prendergli qualcosa con quelli dove me li metto qui sta regali nei giocattoli posso solo si acquistare ste robe qua va bene acquisteremo unitario si conosciamo tre persone in croce grazie al cielo che è unitario dico grazie al cielo per non dire qualcos'altro qui abbiamo tutto lo zozzume dopo io volevo anche un'altra televisione un po più grande in modo che insomma bene o male se devo divertirmi al manco che mi sia un po più di aiuto io poi non ho neanche un pc e devo fare una ricerca sulla pianta che posso fare solo al pc clicca su una pianta e fai una ricerca o analizza ho sbagliato pensavo a tutt'altro vabbè lascia stare piove pulirà la pioggia ora leggimi un po' madonna ma è già da lavare di nuovo l'ho lavato stamattina madonna del cielo se lo soffoco state attenti che lo soffoco cande il porco è anche lei ma porca miseria a che livello siamo di giardinaggio poi quasi al 5 non manca tantissimo al 5 allora sarebbe tanto bello poterle prendere il tratto quello raramente stanca com'è che si chiama però purtroppo ah viene a fare una ricerca no aspetta la ricerca la puoi fare anche su un albero qua davanti così non ti sposti troppo l'hai fatta ti pagano e via svieni per terra nel frattempo giustamente per seguire l'ordine naturale delle cose come si suol dire allora dai mangiate e dopo vi vengo a lavare più tardi ma deve riprendersi anche lei altrimenti non esco che brutti sti momenti in cui i bambini sono veramente lasciati a loro stessi un po' mi piange il cuore ve lo giuro però del resto stiamo facendo del nostro meglio più di così al momento quando avrò anche gli altri figli più grandi sarà sicuramente più facile perché almeno per esempio gli adolescenti possono lavare i bebè possono insegnarli andare sul vasino e cose così quindi sarà decisamente più semplice allora laviamo Ella proviamo laviamo Ella se se lo lascia fare dobbiamo anche aprire le piante estive adesso che ci penso domani facciamo tutto con la fiacchetta facciamo tutto ok almeno la bimba è pulita e può incolparmi solo di essere una pessima madre non anche di altro fai il bagno a Diego sto giro no non andar giù ecco triplo della fatica non capisco ho due scatoline io me ne approprio una e una due così per non saperne leggere né scrivere vabbè la roba sui pavimenti lì la lascio lì mi turba psicologicamente non poco ma ci sono cose peggiori nella vita ad esempio un'assistente sociale che mi porta ai miei figli quindi direi che ok mi approprio anche di questa anche di questa grazie tu continua a ravanare che cosa buona e giusta niente basta si è stancato giustamente da un lato allora 2900 simoleon andiamo a comprare qualcosa la televisione dei giochi per i bimbi allora partiamo dalla cosa più importante che penso siano i giochi per i bimbi altrimenti qua mi vanno in crisi oltre al fatto che non è che ci sia molto spazio ci allargheremo poi allargheremo anche di qua di sicuro altrimenti non ne veniamo fuori allora la casa delle bambole più economica è questa qua che però con gli sgribizi in mezzo non ci sta ma vi rendete conto che questi sgribizi occupano spazio? cioè pazzurdo veramente vabbè noi applichiamo questo trucco e compriamo la casa delle bambole che costa meno tirchie fino alla fine però almeno hanno la casa delle bambole si perdono via la tv che io volevo comprare cos'è? 2005 sono uguali sono uguali ad alta definizione ah da tavolo questa è da appendere di questa è da tavolo non ci avevo mai fatto caso raga madonna tutto quanto no? maria vergine maria vergine stuarda no facciamo questa che è già meglio andiamo per gradi non mi resta niente se no andiamo per gradi casomai la cambio di nuovo allora vieni qua a giocare con le bambole così ti diverti anche hai visto che bella la casetta? oh mamma mia bellissima è bellissima così parlo ai miei gatti oh mamma mia orca deve farla pipì ok cuoretta vi giuro mi fa una pena infinita una pena infinita ok estate lavoriamo da casa ah fai una ricerca di nuovo sul giardinaggio ok dai sto giro però apriamo anche le piante estive così almeno vediamo se abbiamo qualcosa di nuovo da piantare ok direi che è ora di iniziare la giornata quindi ci alziamo pipì tutte queste belle cosine qua mangiamo i bimbi li lasciamo dormire il più possibile anche perché loro come ha già fame lui loro hanno già mangiato stavo per dire vabbè lui ha ancora fame quando si sveglierà ci porremo il problema ok adesso lei ci apre i semini piantiamo le cose dai te l'ho fatto io non rompere apri oh che bello le ciliegie allora noi continuiamo la nostra raccolta di alberi qua di fianco e le altre due le vendiamo aspettate perché me le sposta così in là io li voglio più vicini allora intanto estirpiamo queste erbacce perché noi comunque dobbiamo prenderci ancora cura del giardino nel senso non è che perché magari abbiamo niente da vendere o poco niente il giardino non va da curare Diego ha molta fame ecco qua adesso è un problema da porsi eh ho sbagliato a premere raga pazienza scoprirà nella dura maniera che non riesce a venire giù e io farei mangiare anche lei quasi quasi cioè le faccio fare la pipì e poi le faccio mangiare sono le ultime due porzioni no stai buona ti seguo le mani fossile rotto ma guarda che cosa cato mi qua dentro una palla un'altra palla cioè tutte robe per cani tipo no allora vendi tutto e viene anche di qua non mi ricordo mai sì poi dobbiamo anche innaffiare da quello che vedo dai che intanto il nostro piccolo gruzzolo cresce un livello 5 molto bene e basta no lei deve fare la pipì dopo le facciamo fare la ricerca sul giardinaggio che è quello che ci chiedevano per il lavoro e facciamo sempre da qua signore questo bambino non si dica che non abbiamo fatto no l'ha distrutta Maria le mani ti taglio le mani le mani no ah no questo è proprio dal computer invece ma no lei voleva abbracciarlo e lui l'ha respinta dai secondo giro è andata meglio sì mi cresceranno dei figli privi di amore materno cosa cosa volete che venga fuori raga cioè non verrà fuori niente di positivo questo è poco ma sicuro poi che nella vita ci sia sempre di peggio tipo nascere con quattro occhi e lì ok è sempre tutto discutibile siamo in travaglio ok raga allora noi applichiamo la tecnica dell'altra volta ovvero aspettiamo le tre ore del travaglio in modo che ci regalino la culla ora qualcuno di voi mi ha chiesto quale sarà il prossimo nano a cui ti ispirerai per così dire e penso proprio che mi ispirerò a mammolo questo perché mammolo era il nano quello che rideva sempre no quello gioioso e i vari nomi che mi ha suggerito questa persona mi piacevano e soprattutto avevo più scelta adesso vi dico anche trovo lo screenshot che ho fatto ah no mammolo scusatemi era quello che arrossiva sempre è vero no io mi riferivo a gongolo però dipende nel senso che cioè se mi nasce maschio lo chiamerò per forza con il nome che questa persona mi ha suggerito per mammolo perché per per gongolo non mi ha suggerito nomi maschili quindi non saprei dove sbatter la testa se è una femmina invece penso opterò per i nomi di gongolo quindi vediamo un attimo per la cronaca per mammolo mi è stato suggerito ross e rossella visto che mammolo arrossiva sempre e per gongolo che era il sim quello allegro che rideva sempre gaia allegra o felice o se no c'era anche gioia volendo una femmina ok allora la chiamiamo come il nano gongolo e la chiamiamo allegra che mi ricorda più gongolo rispetto agli altri allegra neve ok raga abbiamo partorito un'altra femmina in salute allora vi avete detto tieniti la culla al piano di sotto in modo che biancaneve c'è più vicina e io avevo risposto ma no ma è brutto che palle eccetera invece mi sa che quasi quasi essendo un po ma ancora rotta essendo un po stretti qua mi sa che la culla per il momento la tengo di fianco alla libreria che ho spazio qua la metto rosa e via e via lasciamo dormire la nostra povera bianca tenendo conto però che adesso in frigo è finito tutto quindi non abbiamo più riserve di robe da mangiare quindi dobbiamo svegliarla a un certo punto e fargliene fare perché sennò i bimbi ne risentono intanto io mando a letto anche ella anche se non ha gran sonno ma ne approfittiamo così il tempo scorre anche più veloce e noi ci alziamo per lo stretto indispensabile ovvero sistemare Allegra anche Joy era un bel nome ma Allegra è particolare non credo neanche di averlo mai usato ma vuol dire di aver scritto all'agra ho detto Dio ma cosa ho letto fortuna ho letto una cacata è stato solo un errore di lettura non un errore di esecuzione per fortuna allora qua siamo in ferie oggi molto bene approfittiamo della giornata libera per andare in una qualche biblioteca o qualcosa per fare la ricerca sul giardinaggio in modo che almeno veniamo pagati altrimenti perdiamo anche quei soldi là il che insomma mi sembrerebbe abbastanza ridicolo allora cuciniamo beh facciamo un pasto grandioso la colazione così ne ho un po' di scorta che male non mi fa bisogna ragionare nel lungo tempo e trasversalmente giustamente mi sono messa sì allora calmiamola ok questo giro è bastato calmarla si è messa a dormire è molto bene ecco lei adesso mi molla tutto no lo so che la televisione è bellissima e non vedi l'ora di provarla però prima devi farla mangiare una volta che è fatto da mangiare allora andiamo a guardare la tv no scherzavo una volta fatto da mangiare vai da lei che penso avesse fame appunto allora adesso sì sembra che questa non si metta a piangere fra tre secondi Diego ha molta fame ma a me sembra che Diego abbia sempre molta fame comunque bellissimo il piatto sospeso perché c'è il move objects attivo tutto molto bello e oggi se riusciamo ci dedichiamo un po' di più ai bimbi nel senso di perlomeno fargli il bagno e lavargli il culo insomma detta in termini sempre estremamente fini e poco volgari eh sottointeso finisci di mangiare ringrazia che ti ho sfamato dove ma dove vai napolamentati che hai fame sai mi raccomando che hai da mangiare e non mangi cioè grazie a Arca scusate momento di secchezza in gola così improvviso allora queste piume le abbiamo già allora qualcuno mi ha detto ah ma avevi detto che raccoglievi le piume è anche vero che le ho vendute tutte era qua che avevo detto che tenevo le piume no era nel gameplay che avevo detto che tenevo le piume cosa si todrio dire oh qua all'inizio forse era una bella idea ma visto quanto fruttano mi conviene venderle finché abbiamo problemi di soldi quando non ne avremo più lì sarà diverso ci penseremo allora vendiamo un attimo tutto quello che possiamo vendere allegra cioè non di nome di fatto comunque quando che ho finito io rivo come si può dire allora lei deve fare la pipì la mandiamo a fare la pipì lui invece deve farsi il bagno quindi partiamo con lui con il bagno ma l'ha lavato a metà facciamo tre volte lo stesso lavoro costa più fatica mi aspetta a farlo bene la prima volta in più la bambina piange dopo non lamentarti però se sei onto ok dai 1028 di bollette cosa prego non credo di aver capito mi scusi ok adesso è pulito fuorito sta bianca neves dovevamo andare anche in in biblioteca ci andremo ci andremo anche appena abbiamo più soldi prendiamo anche un letto più minchia potenza per la povera bianca che è veramente una donna distrutta come si suol dire ma hanno già fame sti bambini cioè ma ma cosa consumano ma scusatemi una roba incredibile aspetta cosa vi dico quasi quasi no ho sbagliato io vado in biblioteca così vanno all'asilo non mi rompono le balle per un po' magari riesco anche a dormire su una panchina da qualche parte perché questa è una sorta di supplizio una sorta di supplizio quindi andiamo non ne posso più dormo in una panchina per un paio d'ore piuttosto allora qua abbiamo qualcosa che ci può interessare no qui no e andiamo a Willow Creek che sono sicura abbia la biblioteca eccola qua andiamo la cosa brutta è che non so se si prenderanno cura di loro lavandoli eh eh c'è un divano o qualcosa va bene anche la poltrona fai il pisolino lì scelto proprio la biblioteca sfigata beh c'è questo però fermi tutti fai un pisolino va benissimo anche qui guarda ti lascio proprio dormire un paio d'ore perché è giusto per alzarti un po' qua la barra perché c'è un supplizio sta roba sperimentato nella One Angel Baby Challenge sono sopravvissuta alla One Angel Baby Challenge il problema è che non sono più abituata nel senso nel senso che l'abbiamo fatta tantissimo tempo fa quindi allora noi dobbiamo fare cosa una ricerca vero sul giornalismo ah dobbiamo pagare anche le bollette fra le varie cose ah niente questa mi ciava al computer internet ricerca sul giardinaggio vai no ma c'è vato al computer maledetto internet ricerca giardinaggio qualcun altro che vuole ciavarmi con ah l'ho fatta andare via giustamente ok molto molto bene paghiamo le bollette già che ci siamo così siamo a posto perché volevo comprare qualcos'altro ma preferisco sapere effettivamente quanti soldi ho in modo che almeno mi regolo sennò poi mi scoccio a non pagare le bollette vabbè torniamo a casa non abbiamo molte altre scelte sì si sono presi cura di loro molto bene qualcuno dovrebbe prendersi cura anche della povera bianca vedi distruggere la casetta delle bambole cioè non so è servito a qualcosa ne valeva la pena è cambiato niente e niente ragazzi adesso concludiamo siamo in dirittura d'arrivo praticamente io concluderei qua l'episodio volevo un attimo far risorgere bianca per farle fare una doccia rapida così farle sistemare la casetta delle bambole prima sgrediamo ella in modo che finché i bambini stanno bene perlomeno hanno le loro cose con cui trabattare per partire anche la lavatrice stavo per dire la lavastoviglie mi sfido io eccola che parte all'arrembaggio te comissi si tacito come si suol dire niente te la mando a letto che è più o meno relativamente presto oh che palle basta adesso la lascio piangere e niente ragazzi io per questo episodio vi lascio qua lasciate un piaccio al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi